Dalla periferia alla zona industriale fino alla città, dopo uno stop causato da una necessaria revisione dei prezzi, ripartono i lavori di asfaltatura nel comune di Fano. Lo hanno annunciato il sindaco Massimo Serie e l'assessore Barbara Brunori, che hanno fatto il punto sugli interventi eseguiti dal mese di giugno, su quelli in corso e sui lavori in programma, per un totale di 5 milioni e mezzo di euro. Nel primo appalto da circa 4 milioni di euro rientrano 30 chilometri di strade già asfaltate, come a Sant'Orso, Cucurano, Montegiove, Carignano, Gimarre e Ponte Sasso. Rimangono la strada comunale Cacciafame, le vie Tognolo, Medevampa, via Roma e via Enaudi, sia nel tratto che va dalla seconda rotatoria del Fano Center al distributore di carburante, sia nella via del Brico Center e nei relativi parcheggi. Sono in corso invece le asfaltature in queste vie, nel quartiere di Sant'Orso, ad opera di Aset S.p.A., mentre un altro appalto da un milione e mezzo verrà portato a termine entro il mese di dicembre, tempo permettendo. Nell'elenco rientrano 15 strade, tra cui via della Paleotta, via Fanella, via della Giustizia e un tratto di via Papiria. Alcune volte dicono fate solo le zone centrali. No, abbiamo fatto molto nelle zone periferie, molti interventi a Sant'Orso, nuovi interventi anche di Aset, dove ha fatto interventi sotto servizi. A queste se ne aggiungono altre milioni e mezzo. Poi vorrei sottolineare un altro aspetto, il lavoro serio che noi facciamo. Intanto cerchiamo di utilizzare anche materiale riciclato di qualità certificato. Facciamo un lavoro nel sottofondo, che ha un costo maggiore, quindi alcune volte facciamo lunghezze minore per avere una maggior durata. E poi vorrei ricordare che noi facciamo anche controlli ante del materiale e post con carotaggi sul lavoro fatto, perché se non si rispettano i nostri parametri e le indicazioni date, vengono anche rifatte. Ricordo che nel 2016 ci furono episodi di questo tipo, però oggi, devo dire, sotto questo aspetto abbiamo un ritorno positivo. Quindi un intervento importante che non sarà risolutivo, questo lo voglio sottolineare perché ci stiamo già preparando per altri lotti di intervento.